Giuseppe Biava, più amarezza, più delusione, una bella Atalanta, un bel primo tempo, poi la Juve però sfodera la sua classe e vince 3-0. Sì, diciamo che abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo riusciti a contenerli nonostante siamo andati sotto, poi abbiamo avuto l'occasione per pareggiarla e sul contropiede abbiamo preso il 2-0 e penso che la nostra partita sia finita. Peccato perché ci hanno creduto e potevamo metterli in difficoltà, loro sono una squadra forte e l'hanno dimostrato. Certo che un trittico come quello che avete disputato, Fiorentina, Inter, Juventus, 7 giorni, 3 partite, insomma belle toste, l'Atalanta sì avrà anche perso però ha fatto una bella figura perché ha dimostrato di esserci contro squadre che hanno obiettivi importanti in questa stagione. Sì, quello sì, non abbiamo dimostrato di essere inferiori, ce l'hanno giocata a pari con tutti e tre, forse meritano qualcosa in più con la Fiorentina. Certo c'è il rammarico di non aver raccolto niente nonostante buone prestazioni, però nel calcio conta fare punti e purtroppo pensavamo di fare qualcosa, qualche punto in più. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, ci aspetta una partita difficile a Genova con la Sampdoria e cercheremo di portare a casa punti lì.